Bello ragazzi, ed eccomi tornato, sono Ghostfrax, un nuovissimo video sul mio canale e quest'oggi ci sarà un'altra soccer challenge ma attenzione, attenzione inventiva Ghostfrax video mai visto al mondo, non è vero probabilmente esistono milioni di video, non ho mai cercato ciò però tenteremo di fare dei tiri da qua, dall'angolo e quindi colpiremo sia di interno che di esterno, una volta per uno quindi una volta di qua, una volta di là e cercheremo di fare la spiegazione tecnica, una volta di un quarto praticamente cercheremo di fare gol il primo di noi che arriva a 5 gol vincerà Acab, inizio io che esamina, droga, droga, droga e va subito a prendere il posto guarda, ci sta con la porta là che si esce, è perfetto e dato che comunque Darrell è mancino, lui tirerà di interno mentre noi abbiamo appena tirato di esterno da qua, vede là per contrario perfetto, la messa sull'angolo beh beh, ci vediamo di là si batte il mostro, il Ghost France ti posso scorreggere la testa? no ma lo scorreggere, che pelle si, è uguale a quello del primo? si, identico bello bellissimo 1-0 per dargli il tenazzo lo fa e c'è l'1-1 e c'è l'1-1 ci sarà il sorpasso? c'è il sorpasso, subito l'interno, non ne farò mai uno, ricordate boffa no, non ne farò mai uno, non ne farò mai uno no, non ne farò mai uno bello bello c'è l'1-1 faffa culo, ma hai distratto non ne farò mai una d'interno ogni tiro così ogni tiro così c'è l'amantico gol, 3-2 per me per me o lì le fattute a guarda è finito guarda 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 rimane a 3 invincibile però questo non la farò mai di interno tentabile tenta in calo guarda guarda non dà assaggio perfetto per david ed è c'è e c'è il quarto e il quarto un po' presto ha girato la classe non è acqua ma si vede che non ho bevuta troppo con questa perla vi saluto vi ringrazio forza roma basso dario c'è non sta cazzo di altro allora ragazzi il video è finito come avete visto ho brutalmente vinto io godfrax francesco a.k.a. fare tra frax brutalmente non esagerò comunque sei a tre punti comunque sei rimasto a tre punti o svaldo tre punti sono meglio che te cinque cinque punti tre punti e 530 mila iscritti da godfrax e la sua bellissima compagnia ormai soccer challenge è tutto mi raccomando lasciate un like arriviamo a 15.000 like per lo sdrogo player in the world perché ho parecchie altre sfide da fare altre challenge da fare qui soccer challenge incredibile perché è più artistico capito capisci in cazzo 160.000 iscritti parli e quindi niente 15.000 like per la prossima soccer challenge da godfrax ciao ciao è tutto passate anche sui loro canali come sempre cliccate qui per iscriversi al suo e cliccate nel voto per iscriversi al canale di Dread e ora che è venuto lui verrà levata la cosa bella ciao